Da inizio anno in Svezia si conta lo stesso numero di vittime per sparatorie dell'intero 2020. Finora 44 le vittime delle bande composte da non-autoctoni. La polizia al momento non è in grado di arginare il fenomeno, lo hanno dichiarato varie autorità. Da Stoccolma per Hirteve Bugnjar Zoltan. Vi invito a sostenere il canale, come sempre iscrizione, mi piace condivisione. Dopo il capo della polizia svedese, anche un altro vertice ha dipinto un quadro drammatico sulla criminalità diffusa, sull'evolversi della sempre più difficile situazione. Il direttore nazionale della stradale alla radio pubblica ha riferito che la situazione bande straordinariamente grave. Preoccupa il numero di colpi d'arma da fuoco registrati. Non vede la luce in fondo al tunnel e finora non si è riusciti ad invertire la tendenza. Attualmente in Svezia siamo su una media di una sparatoria al giorno. Negli ultimi mesi ci sono stati episodi che hanno scosso particolarmente la società scandinava. Quello del famoso rapper Einar, che ha perso la vita per un colpo in un quartiere borghese di Stoccolma. Quello del primo poliziotto caduto quest'estate in una no-go-zone di Göteborg. Il colpo partito da un diciassettenne di origini non svedesi. In settimana lo hanno chiamato in giudizio con l'accusa di omicidio volontario. Sul lato delle investigazioni non c'è da essere ottimisti. Solo nell'11% dei casi si scopre il o i colpevoli. In aumento dal 2019, nonostante che la polizia a partire dal 2015 riceva un supporto eccezionale. Più 20% di agenti sulle strade e più 35% di finanziamenti pubblici. La settimana prossima sarà nominato probabilmente dal Parlamento un nuovo primo ministro. Magdalena Andersson, candidata per il Partito Socialdemocratico, ha fissato come priorità assoluta quella della riduzione drastica della criminalità delle bande. Una promessa simile, molto simile, a quella dell'attuale primo ministro e compagno di partito, Stefan Löwen, che ha governato negli ultimi sette anni la Svezia. Sotto Löwen la statistica non è migliorata, ma peggiorata drasticamente. Viva il patriottismo, viva l'Italia e i ammoglio l'orsal.